Salve a tutte e tutti, parliamo della subordinata infinitiva e per parlare della subordinata infinitiva abbiamo bisogno di tornare un istante sull'infinito ricordiamo che l'infinito ha in latino tre tempi a differenza dell'italiano che abbiamo l'infinito presente, l'infinito presente attivo è la quinta voce del paradigma, l'infinito presente passivo è l'infinito presente attivo però sostituisco la e finale dell'attivo con una i, per la terza coniugazione invece tolgo tutta la desinenza ere e la sostituisco con una i per l'infinito perfetto invece all'attivo io prendo il tema del perfetto e aggiungo una isse, per il passivo io prendo il tema del supino, lo privo quindi il supino senza um e aggiungo l'accusativo dell'aggettivo di prima classe quindi faccio per esempio laudatum, laudatam, laudatum, laudatos, laudatas, laudatas, laudata, esse per l'infinito futuro sia all'attivo sia al passivo uso il supino in particolar modo per l'infinito futuro attivo io prendo il tema del supino aggiungo l'accusativo del participio futuro più esse quindi faccio laudaturum, laudaturam, laudaturum, laudaturos, laudaturas, laudatura, esse per il passivo invece io prendo il supino quindi non il tema proprio il supino con la um in declinato più iri andiamo a vedere gli usi in un testo latino l'infinito si trova o perché è sostantivato con la difficoltà però che a differenza dell'italiano quando l'infinito è sostantivato non ho la spia dell'articolo perché il latino non ha gli articoli e quindi lo devo capire dal contesto quindi dalla sintassi oppure l'infinito in una frase può essere letto da un verbo servile o fraseologico ora anche qui una piccola difficoltà mentre in italiano abbiamo tre soli verbi servili quindi è facile saperli a memoria e sono potere, dovere e volere mentre gli altri sono fraseologici che significa che reggono l'infinito però con l'ausilio anche di una preposizione che ne so iniziare a finire di continuare a decidere di più infinito ho deciso di mangiare meno carne ecco in questo caso il verbo mangiare è retto da ho deciso di e in questo caso il verbo è fraseologico in latino ce ne sono tanti ma non sono retti da preposizione quindi c'è direttamente il verbo in questo caso per esempio decidere statuo che regge direttamente l'infinito senza bisogno di preposizione però le cose si complicano parecchio perché il terzo uso dell'infinito è all'interno della subordinata infinitiva ora la subordinata infinitiva è una delle subordinate più difficili più antipatiche della lingua latina perché perché innanzitutto diciamo che posso avere subordinate infinitive o oggettive o soggettive e quando le troviamo diciamo spiegate sulle grammatiche ci viene detto è quando la subordinata svolge il ruolo di soggetto di complemento oggetto però è tutta una frase con un verbo e secondo me spiegata così non ha proprio senso quindi è più facile se diciamo abbiamo quelle subordinate che sono rette o da verbi del dire o del pensare o del sentire o da verbi copulativi tipo sembrare apparire introdotte o da che o da di e che quindi sono quelle frasi tipo io penso che io dico che mi sembra che mi sembra di ora in latino queste frasi non sono introdotte da nessuna congiunzione ecco perché sono le frasi più difficili o fra le più difficili da riconoscere perché a differenza di tante altre subordinate latine ecco che praticamente l'oggettiva e la soggettiva quindi le infinitive non hanno una subordinata non hanno una congiunzione subordinante quindi non c'è l'ut non c'è il cum non c'è un si non c'è nessuna congiunzione che le introduce e quindi ciò che mi aiuta a individuarla nel testo è il fatto che io nel testo trovo un infinito vado a vedere vedo che questo infinito non è retto da verbo servile o frasiologico non fa da infinito sostantivato e tra l'altro non è che gli infiniti sostantivati siano così tanto diffusi in latino e oltretutto il verbo reggente è appunto o un verbo del dire dell'affermare o del pensare o un verbo copulativo quindi il verbo reggente significa dire sostenere affermare oppure pensare ritenere oppure sembra pare oppure si dice si tramanda e poi ho questa costruzione particolare che è dell'accusativo più infinito tant'è che l'infinitiva è anche detta costruzione dell'accusativo più infinito perché il soggetto e tutto ciò che si riferisce al soggetto nell'infinitiva sta in accusativo e il predicato verbale sta in infinito a questo punto capiamo anche perché quando abbiamo studiato l'infinito abbiamo visto che convenzionalmente usavamo gli accusativi anziché i nominativi il tempo dell'infinito segue le regole della consecucio temporum questo ormai abbiamo imparato che cosa significa significa che se ho un infinito presente ciò che è detto nell'oggettiva o nella soggettiva quindi ciò che è detto nell'infinitiva avviene in contemporaneità rispetto alla principale se ho un infinito perfetto il tempo della subordinata avviene in anteriorità rispetto alla principale se ho un infinito futuro ho una posteriorità andiamo a vedere io qua ho scelto di usare sempre la stessa frase quindi sempre con lo stesso significato per far vedere come si configurano questi rapporti di tempo in base alla consecucio temporum e anche per far vedere come poi si traduce in italiano allora io abbiamo detto tre tempi dell'infinito infinito presente quindi esse infinito perfetto fuisse infinito futuro futuro futurum futuram futurum futuros futuras futura esse sono i tre tempi dell'infinito del verbo essere ricordiamo tra l'altro che l'infinito futuro del verbo essere si può trovare anche in forma sincopata quindi scritto anche soltanto fuori l'infinito presente dunque esse mi instaura un rapporto di contemporaneità la contemporaneità può essere o con il tempo presente o con il tempo passato o con il tempo futuro quindi nella prima frase dico illos malos esse dico è il verbo della reggente e qui la reggente la principale è soltanto dico illos malos esse è la subordinata infinitiva oggettiva perché perché qui dico a un soggetto sottinteso che è io è la prima persona singolare mentre nella subordinata oggettiva il soggetto che deve essere sempre espresso cioè nella oggettiva latina nell'infinitiva latina il soggetto non può essere mai sottinteso deve essere sempre espresso e sta sempre in accusativo è illos quindi illos è il mio soggetto in accusativo esse è copula e malos è predicato nominale che sta appunto in accusativo perché il predicato nominale del soggetto dell'infinitiva che sta in accusativo esse è infinito quindi ho un rapporto come dicevamo di contemporaneità da principale sta al tempo presente ho contemporaneità con tempo presente quindi io dico che quelli sono malvaggi quando nella principale io ho un verbo in cui si afferma nella subordinata uso l'indicativo se qui però avessi avuto invece un verbo in cui avessi detto io credo io penso io ritengo avrei dovuto usare il congiuntivo quindi anziché dire io dico che quelli sono malvaggi avrei dovuto mettere io credo che quelli siano malvaggi seconda frase dicebam illos malos esse in questo caso il rapporto è sempre di contemporaneità perché l'infinito è presente però con tempo imperfetto quindi al passato quindi io dicevo che quelli erano malvaggi se avessi avuto un verbo di dubbio io credevo che quelli fossero malvaggi quindi la contemporaneità con tempo storico si fa con l'imperfetto indicativo congiuntivo dicam illos malos esse è di nuovo una contemporaneità con tempo semplice e qui la reggente sta al futuro quindi io dirò che quelli saranno malvaggi o io dirò che quelli sono malvaggi se avessi avuto penso io penserò che quelli sono malvaggi io penserò che quelli siano malvaggi andiamo a vedere invece quando alla subordinata infinitiva io mi trovassi di fronte a un infinito perfetto quindi avessi un rapporto di anteriorità di nuovo posso avere un'anteriorità al presente un'anteriorità al passato e un'anteriorità al futuro dico illos malos fuisse anteriorità con tempo semplice io dico che quelli sono stati malvaggi oppure se avessi avuto un verbo di esitazione io credo che quelli siano stati quindi l'anteriorità si fa o col passato prossimo indicativo o col congiuntivo passato dicebam illos malos fuisse qui mi si configura un'anteriorità con tempo storico io dicevo che quelli erano stati malvaggi oppure avesse avuto appunto il verbo pensare io credevo che quelli fossero stati malvaggi quindi l'anteriorità con tempo storico si fa o con l'indicativo trapassato prossimo o col congiuntivo trapassato dica millos malos fuisse qui ho una posteriorità al futuro io dirò che quelli saranno stati malvaggi oppure io dirò che quelli siano stati malvaggi o sono stati malvaggi andiamo a vedere adesso la parte un po più difficile anche perché noi in italiano manchiamo di infinito futuro dico illos malos futuro sesse qui abbiamo una posteriorità con tempo semplice io dico che quelli saranno malvaggi quindi uso l'infinito futuro e anche avesse avuto un verbo di dubbio io penso che quelli saranno malvaggi perché ovviamente in italiano non esiste congiuntivo futuro quindi sempre devo usare l'indicativo il problema ce l'ho qui dicebam illos malos futuro sesse cioè la cosa più difficile è tradurre la posteriorità con tempo storico perché perché in italiano non abbiamo né un congiuntivo futuro né un infinito futuro noi qui abbiamo l'infinito futuro futuro sesse e abbiamo una principale dicebam che sta al passato questa si traduce con il condizionale passato perché la posteriorità con tempo storico si traduce appunto col condizionale passato io dicevo che quelli sarebbero stati malvaggi e questa è la peculiarità delle infinitive più difficile a tradursi ripetiamolo la posteriorità con tempo storico cioè quando io ho un infinito futuro retto da un verbo storico in quel caso io devo ricorrere al condizionale passato l'ultimo caso che è molto poco frequente è dica millos malos futuro sesse qui ho una posteriorità al futuro io dirò che quelli saranno malvaggi un piccolo consiglio un piccolo trucco di traduzione potrei tradurre pensando tra me e degli avverbi cioè io oggi penso che oggi quando io ho la contemporaneità con tempo semplice quindi io oggi penso che oggi loro sono malvaggi io ieri pensavo io ieri dicevo che quelli ieri fossero malvaggi quando ho la contemporaneità quando ho l'anteriorità faccio io oggi penso che loro ieri siano stati io ieri pensavo che loro l'altro ieri fossero stati io domani penserò che loro il giorno prima siano stati quindi per la posteriorità soprattutto con tempo semplice è utilissimo questo discorso io oggi penso che loro domani saranno io ieri pensavo che loro domani sarebbero stati io domani penserò che loro domani saranno ecco se io le penso le mie frasi pensando ieri oggi e domani forse la traduzione viene più semplice ripetiamolo ancora una volta la cosa più difficile da fare è tradurre la posteriorità con tempo storico quindi quando ho l'infinito futuro retto da un tempo passato quindi quando io trovo un infinito futuro ma la reggente sta al passato io devo usare il condizionale passato altre due piccole peculiarità che però mi rendono bella una traduzione io posso sempre tradurre la frase esplicita quindi con il che uso l'indicativo se il verbo è di affermazione io dico io dico io sostengo io affermo in questi casi uso l'indicativo se invece io ho una frase in cui ho un verbo del dubbio io penso io ritengo mi pare mi sembra in quel caso io devo usare il congiuntivo se io ho identità di soggetto invece posso anche tradurre con di più infinito però io posso tradurre con di più infinito soltanto se il soggetto della reggente il soggetto della subordinata infinitiva coincidono cioè se ho lo stesso soggetto ricordiamo però che il latino il soggetto dell'infinitiva deve essere sempre espresso e allora che cosa fa il latino quando il soggetto della reggente il soggetto dell'infinitiva coincidono usa il pronome personale di terza persona quindi il riflessivo all'accusativo quindi usa me te se nos vos se il problema è che questo pronome di terza persona se tante volte sul testo è difficile a riconoscersi perché così ad una prima lettura tante e tanti si confondono e lo scambiano per una congiunzione subordinante ipotetica è un errore che non si dovrebbe fare perché in realtà la congiunzione subordinante ipotetica è sì cioè quella che in italiano è se quella che uso per dire se domani pioverà uscirò con l'ombrello in latino si dice sì però che succede che uno si sbaglia ecco invece io ci devo fare molto caso perché è molto frequente in latino il fatto di avere delle subordinate infinitive in cui il soggetto della reggente è lo stesso della subordinata e in quel caso il soggetto della subordinata che deve essere sempre espresso è espresso con questo sì l'altra difficoltà ripetiamolo un'altra volta è che questa subordinata non è introdotta da congiunzione quindi mentre per altre subordinate latine ecco che io trovo il cum trovo l'ut trovo un posquam trovo un antequam quindi ho un elemento all'interno della frase che mi permette subito di dire ok sono in presenza di una subordinata qui no qui il primo elemento che mi spinge a concentrarmi e a farmi dire che forse sono in presenza di un infinitiva è la presenza di un infinito però ecco ci sono tanti infiniti che è più difficile che io riesca a riconoscere tipo un infinito presente passivo di terza coniugazione a questa desinenza che consiste soltanto in una i e quindi io lì per lì non li riconosco oppure abbiamo questi infiniti perfetti passivi o infiniti futuri sia attivi sia passivi che magari io sul testo confondo perché ecco che mi sembrano aggettivi oppure tante volte questi infiniti perfetti passivi o infiniti futuri attivi hanno il verbo s sottinteso quindi magari trovo quello che lì per lì mi sembra soltanto un participio allora il vero trucco qual è guardare il significato del verbo reggente se il verbo reggente è un verbo che significa dire quindi è un verbo dicendi che significa dire sostenere affermare oppure è un verbo che significa pensare credere sentire oppure è un verbo copulativo che significa sembrare oppure è un verbo che significa si tramanda si dice in quel caso io ho la subordinata infinitiva a quel punto vado a vedere se c'è l'infinito oppure viceversa io sul testo riconosco l'infinito vado a vedere che questo infinito non ha un valore sostantivato non è retto da un verbo che non è né servile né fraseologico allora mi deve venire in mente che è un verbo di un'infinitiva a quel punto io devo andare subito a cercare sia il soggetto in accusativo che deve essere necessariamente espresso sia il verbo reggente che deve essere un verbo però che mi deve sopportare un'infinitiva quindi che deve essere un verbo che significa dire pensare sostenere affermare un verbo che significa sembrare o un'espressione tipo è legge è costume insomma un'espressione o un verbo che poi possa essere eseguito da un oggettivo o da una soggettiva l'ultimissima particola come dire l'ultimissima regola che differenza c'è in italiano fra un oggettivo e una soggettiva questo magari a tanti è noto però come la riconosco perché al di là della regola come la riconosco sul testo nella oggettiva la reggente ha un suo soggetto che può essere o sottinteso o espresso ma ha un suo soggetto nella soggettiva il verbo reggente è impersonale pare sembra si dice si tramanda la subordinata è soggettiva io credo credo egli sostiene pinco pallo pensa la subordinata è oggettiva io spero che questa serie di video sia utile sia a chi sta imparando questa lingua da zero sia soprattutto mi auguro che questi video possano essere utili a tutti coloro che nell'imparare questa lingua stiano incontrando delle difficoltà e abbiano bisogno di lezioni di potenziamento perché tante volte succede che si studia la grammatica ma poi si hanno delle piccole difficoltà nel comprendere alcune sfumature nel comprendere come la grammatica si applica poi sui testi ci sono poi delle difficoltà nella comprensione di alcune sfumature ecco questi video servono anche a questo perché poi la grammatica è utile solo e soltanto se ha un rimando sul testo questo però non significa che si possa andare sui testi senza conoscere a perfezione la grammatica quindi ci si mette sui testi soltanto conoscendo bene declinazioni coniugazioni la morfologia in tutte le sue parti ma poi si deve lavorare sul testo e sulla sintassi se questi video sono utili io rinnovo l'invito ad effettuare l'iscrizione al canale per non perderne nessuno anche perché il latino è una lingua progressiva quindi poi sul testo si trova tutto e vi ringrazio dell'attenzione